Inizia così la sessione pomeridiana dell'Assemblea Congressuale dell'Associazione di Cultura Politica Il Cantiere e insomma anche questa volta sono con Carlo Prinzoffer e inizia la fase più delicata perché adesso c'è il dibattito interno, la discussione anche su quello che è stato fatto in commissione e volevo chiedere a Carlo riguardo la commissione sulla riforma della legge elettorale che è poi il tema di questi giorni, l'Italicum, abbiamo fatto un discorso, vorrei che tu accennassi a quel tipo di analisi che facevamo. Quando l'abbiamo fatto insieme abbiamo trovato poi questa combinazione, l'incoerenza dell'algoritmo oggi si cerca sempre la formula esatta, quella che dovrebbe risolvere tutto, poi alla fine dato che le formule sono schemi e quindi lo schema è comunque una forma di prigione del pensiero, noi abbiamo cercato di andare invece sul pensiero laterale, su un pensiero più creativo e siamo arrivati alla conclusione che se il sistema elettorale è basato sul consenso si è molto disatteso il concetto di dissenso, il concetto di dissenso era fino a poco tempo fa basato sulla scheda bianca e oggi invece è per esempio sull'assenzione e questo ci dovrebbe far riflettere, se un sistema elettorale è basato sul consenso questo potrebbe portare al consenso di pochi sul dissenso di molti e allora forse su questo ci dovremmo interrogare, c'è una formula diversa da quella attuale per consentire a chi dissente di esprimerlo e questa è una domanda che noi come cantiere stiamo cercando di, non dico di risolvere ma comunque di mettere sulla griglia dei pensieri, dei vari pensieri altri elementi che non i soliti. Ultima domanda, la seconda e ultima, una tua riflessione su questa corsa al Quirinale per il nuovo Presidente della Repubblica? Qui siamo dentro quello che dicevo io, siamo dentro quello schema o meglio dentro quegli schemi è come voler fare entrare in un cerchio un quadrato o in un quadrato un rettangolo, ognuno si tiene il suo cerchio, il suo quadrato, il suo rettangolo e in realtà poi questo porta a quello che ha determinato questa situazione ormai insostenibile di un meccanismo che non propone soluzioni perché ognuno propone la sua, c'è questo meccanismo del confronto su soluzioni non accettabili dall'altra parte o dalle altre parti e quindi ognuno resta fermo blocchiato, quello che noi chiamiamo anche nel cantiere il meccanismo delle sabbie mobili, cioè tu entri là dentro e invece di dare soluzioni vieni risucchiato da questo meccanismo che non consente soluzioni, non lo consente, dobbiamo uscire fuori da questi equivoci, sono soprattutto equivoci intellettuali, equivoci culturali, ma d'altronde basta sentire quelli che propongono vecchie ricette, vecchie soluzioni che ripetono stancamente delle lezioncini come fossero dei mantra religiosi e quindi diciamo sembra un meccanismo fideistico, ognuno ha la sua fede e la sua fede è meglio degli altri, questo porta alle guerre di religione anche politica. Allora grazie a Liberi.tv, grazie a Carlo Prinzofer e iniziamo con la sessione pomeridiana.